Siamo giunti alla quinta, sono di scena i gentlemen, cavalli anziani, fila completa, sono in otto dove Ragusa, dopo il buon rientro, è la più gettonata. Bisogna menzionare la nuova giubba del campione italiano Ciccarelli, e questo è tutto a merito della Federnat e del professor Masella, che è stato l'artefice di far guidare con una giubba del campione italiano, con una giubba appunto del tricolore. Complimenti alla Federnat e al professor Masella. Via la macchina. Tre in lotta, ci giocano i birilli, Santiago tenta ma la Ragusa sta già passando. E così a largo la Ragusa passa e scende lungo i birilli. Memorrock rimane a largo. 13.7 il lancio, e così mette già un punto determinante alla corsa. Il buon Simioli con la sua targata jet. E il buon francese va a parcheggiare, o quasi in quarta posizione. 29.7 Ragusa, Santiago rimane a largo però Memorrock, poi il 7 di Ontario e il 13 car victory. Si completano i 600 iniziali. In 45.2 si viaggia da 1.15 e un po' di spiccioli. Dalla coda, Record Rigal prende la via del largo e tenta la risalita. Ora amministra i birilli la Ragusa, completa il mezzo miglio nell'ordine dell'1.1.5, 16.3 di frazione. Il record è trovato un'opposizione di Memor, lo scavalca e punta in avanti. Ma Ragusa non sta ad attendere l'avversario a lunga per il momento e 16.8 a completare il chilometro iniziale. 500 alla meta, con Ragusa al comando, Santiago di dentro al Salchi e Record Rigal. Si distende la Ragusa, 14.8 fanno 1.31.6, i tre quarti di miglio, Ragusa in vantaggio. Poi Santiago che fa anche una mezza ruota. Retta d'arrivo, la Ragusa allunga nuovamente, prende vantaggio, Ragusa in chiaro vantaggio. Sanssouci sans problème, sans problem Sanssouci. Cost to cost, da parte di Ragusa, Santiago e terzi Ontario Rigal. Due minuti e un po' di spiccioli, 1.15.3. Bella vittoria con un po' molto stop and go, con un sanssouci sans problème dell'ottimo Simioli, che quando è in Salchi non sbaglia quasi mai. Quindi, bella vittoria di Ragusa Jet, che al totalizzatore borbotta la quota di 1.41. Sempre perfetto il training di Giacomino perfetto, i colori storici di Toniatti, ma c'è lui, mister Simioli in Salchi. Signori, chapeau. Linea allo studio.